Pigli, oh pigli pigli, you will do pigli, le avventure di pigli Pigli furbo maialino spensierato e birichino che scorazza in una fattoria Vive lì con tanti amici, giorni magici e felici, cavalcando nella fantasia Pigli wings, luffo maialino, pigli wings, furbo e birichino Che avventure pigli wings nella grande fattoria Quando parti ed hai lo sprint, gira mille l'allegria Sei vicino ma sei un grande, hai una marcia sempre in più Non cambiare pigli wings, tu sei mister simpatia Nella grande fattoria di avventure pigli wings Sei un magnifico birbante anche se vai spesso in tilt Le più belle scorribande guidi sempre solo tu Quando c'è la tua regia, che avventure pigli wings Pigli, oh pigli pigli, you will do pigli Le avventure di pigli wings Il drago sputafuoco C'è un anno Oh, per la miseria mi hai spaventato Scusa, ma vuoi sapere cos'è successo oggi a scuola? Io e i miei compagni di classe dobbiamo leggere gli esploratori del razzo Ralu Nessuno ci voleva credere quando ho detto che questo libro l'aveva scritto mio nonno Ah, gli esploratori del razzo Ralu Il mio primo libro è tuttora il mio preferito Così adesso tutti sapranno che sei un grandissimo scrittore Ah, grazie, sei molto gentile E la prossima settimana, quando ci sarà il saggio della scuola Tutti i tuoi compagni scopriranno che sei un'ottima ballerina E scommetto che in questi giorni starai passando tutti i pomeriggi a provare una nuova coreografia per il tuo saggio No, a dire il vero non ho ancora iniziato Danzare mi viene facile, non ho ancora deciso che cosa farò Oh sì, capisco Vedi, sei fortunata a possedere un talento come quello Anche se c'è sempre spazio per migliorare E questa è una lezione che ho dovuto imparare a mie spese Mi sa tanto che tu hai dovuto imparare tutto a tuoi spese, non è così, nonno? Eh sì, hai proprio ragione Ma questo insegnamento mi arrivò da una fonte piuttosto insolita Dal momento che si trattava di un maestro Ragazzi, avete saputo la notizia Mister Orn è andato a Dublino a suonare il violino a una fiera o qualcosa del genere E non viene a scuola oggi Per la miseria, che bella notizia Dai ragazzi, torniamo a casa Fermi, 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 fermi Il fatto che oggi Mister Orn non ci sia non implica che non si debba andare a scuola Oh, ma Dani, non ha senso andare a scuola se non c'è il maestro Questo lo so anch'io, Ferdi, ma è molto probabile che ci manderanno un supplente Già, è quello che ho pensato anch'io Hector Per me non c'è niente di più spassoso che fare gli scherzi ai supplenti Andiamo a vedere se è già arrivato Io qui non lo vedo, Hector Magnifico, allora vado a sistemare il mio scherzetto Sei sicura che oggi ci manderanno un maestro supplente, Dani? Sì, Ferdi, sono sicura Mio padre mi ha raccontato che una volta quando c'era un supplente Lui e i suoi compagni si sono scambiati nomi per un'intera giornata Ehi, questa sì che è un'idea Ma scommetto che tu e Ferdi siete troppo fifoni per fare uno scherzo simile Beh, se la metti così, io sono Ferdi E allora io sono Pigli Buongiorno Sono Mr. McCuff Sarò il vostro maestro finché Mr. Horn non tornerà da Dublino Lui mi ha parlato di voi E quindi un po' come se vi conoscessi già Non vedo l'ora che si sieda alla cattedra per fare l'appello Però dovrete darmi una mano anche voi Visto che è il mio primo giorno di lavoro in questa classe E tu laggiù, come ti chiami, giovanotto? Chi? Io? Stando allo schema dei banchi, dovresti essere Hector Sì, signore Molto bene, Hector Vieni qui, per favore Per esperienza so che è molto utile che uno dei ragazzi mi assista almeno il primo giorno E quindi va pure a sederti alla cattedra al mio posto Preferirei stare in piedi, signore Scusi, Mr. McCuff Avete visto che roba? Da morire, da ridere Ha fatto... Sapete, mi è venuta voglia di fare uno scherzo ai miei pecoroni E adesso vediamo di cominciare a conoscere anche gli altri E tu devi essere Danny Esatto, signore E tu devi essere Piggly Wings Sì, esatto, io sono Piggly Mr. Horn mi ha chiesto espressamente di avere un occhio di riguardo nei tuoi confronti, Piggly Oh? Oh... Ah, sì? Oh, certo Lui e tuo padre sono stati compagni di scuola quando erano ragazzi Oh... Ah, sì Anzi, volevo dire... Sì, certo, è vero Però non ricordo più cosa mi ha detto Mr. Horn Come si chiama tuo padre, l'ho dimenticato Ah, Mr. Wings Intendevo il nome di battesimo, Piggly Ah... Mister? Io non lo so, non ne ho la minima idea Non lo so, lui non è mio padre, Dobby Io non sono Piggly Oh... E adesso che ne diresti di tornare al tuo posto, Ferdy? Ah, sì, signore Grazie, signore Subito, signore Con molto piacere, signore Sai una cosa, Piggly? Io apprezzo molto i ragazzi creativi Ah? Se per caso avete deciso di buttare le matite a terra tutti insieme Vi suggerisco di ripensarci, ragazzi Non era necessario essere una classe di geni Per capire che il nostro Mr. McCoof Era un uomo molto saggio Bene, ragazzi Adesso a chi piace ascoltare una storia vincente? C'è qualcuno che ha voglia di raccontarci una storia divertente o eroica O particolare che riguarda qualcuno della sua famiglia? Cominciate, Udani? Qua, 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 cosa? Ah, beh, così A dire la verità Una storia o due ci sarebbero Magnifico Ti ascolterò con attenzione Dunque, la mia preferita riguarda mia zia Gertie Alla sua fattoria c'è un pollo che va matto per le torte Una volta questo pollo le rubò una torta che stava sul davanzale della finestra E mia zia Gertie trascorse tutto il pomeriggio a cercare quel matto di un pollo per tutta la fattoria La tua storia è divertente Ma dimmi, che cosa faceva tua zia Gertie mentre andava a cercare il pollo? Oh, mia zia Gertie ha i piedi così grandi che sembrano delle pinne E le braccia lunghe lunghe come quelle di una scimmia E così quando si è lanciata alla ricerca del pollo aveva i piedi che sbattevano e le braccia che ruotavano in aria E mentre correva gridava La sua voce assomigliava al rumore delle unghie sulla lavagna E continuava a strillare È una storia abbastanza divertente, no? Sì, è molto bella E tu l'hai resa ancora più buffa quando hai descritto come era tua zia e che cosa diceva Sono questi i dettagli che danno vita e colore ad una storia C'è qualcun altro che ha qualcosa da raccontare? Ah, quel mister Macoof sapeva il fatto suo Tutti i miei compagni erano ansiosi di raccontare la loro storia Allora, mio padre è il fabbro del villaggio e ha sempre ferrato i cavalli Ferdy ci raccontò del giorno in cui dieci cavalli ruppero nella fucina di suo padre Mister Macoof lo guidò nella descrizione finché tutti noi potevamo quasi sentire l'odore acre dei cavalli e del fieno secco Poi toccò Hector E così mi ritrovai in mezzo al frutteto, tutto solo davanti a quell'enorme caprone infuriato Potevamo vedere i suoi occhi cattivi, fiammeggianti, sentire il suo fiato bollente In un attimo arrivò la fine delle lezioni Mi dispiace ragazzi, ma per oggi dobbiamo sospendere i vostri bei racconti Come compito per il fine settimana dovrete scrivere un racconto di due pagine su un vostro familiare Li leggeremo in classe lunedì Per oggi è tutto, potete andare Il fine settimana arrivò e nessuno di noi pensò più a quel compito Ma la domenica pomeriggio il racconto da scrivere e l'avvicinarsi del lunedì fecero irruzione nei nostri giochi All'arrembaggio corsari, dobbiamo cercare il tesoro assepolto Mi sa che dovrete scavare senza di me, capitano Pigli E perché mai, marinaio? Vuoi finire in pasta i pescicani? No, ma si sta facendo tardi e io devo andare a casa a fare i compiti Oh, per la miseria, Dani, tu non hai mai cominciato a fare i compiti a quest'ora? Lo so, ma voglio avere un po' di tempo a disposizione per scrivere un bel racconto per Mr. McCoof Ma Dani, sì, è meglio che vada a casa anch'io adesso No, non andare via, Ferdy, il racconto lo scriverai dopo, è facile Beh, sarà facile per te Per scrivere una storia io ci metto un sacco di tempo Aspetta, Dani, vengo anch'io Aspettami Ci vediamo domani a scuola, Pigli Birni, 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 caro il mio agnellino irlandese Guarda cosa ho trovato Un magnifico girasole e siamo solo a novembre È un miracolo Avanti, mio dolce cavaliere di nero vestito Senti che profumo Per me? Oh, sciocchino, ma non dovevi Non serviva, ma queste rose sono bellissime Ehi, Willy, vieni un po' qua Guarda che bel mazzo di fiori mi ha portato Birni e impara Ecco, senti il profumo di un mazzo di rose regalato da un altro Non sento niente E sei anche un burlone, ma guarda Come mai, Jackass? Non eri a giocare con Dani e Ferdi? Ah, loro dovevano andare a fare i compiti Bene, allora perché non vai in camera tu e li fai anche tu? No, io ci penserò dopo Sono facili Ti serve una mano, papà? No, grazie Devo solo... Molly! Lasciami Via, via, pussa via Stai tranquilla, Molly Ci siamo qui noi Stai ferma, eh È soltanto una libellula Oh, guarda com'è carina Possiamo tenerla Immagino che abbia già una casa Non sarebbe giusto, Molly Ciao, ciao Torna a casa, libellula Vuoi venire a cercare insetti insieme a me? Non credi che sia arrivato il momento di andare a fare i compiti, Pigly? Sì, papà Io ero seriamente intenzionato a fare i compiti Ma c'erano così tante cose da fare prima di cominciare Era arrivato l'ultimo numero di Bat Bravo e dovevo assolutamente leggerlo A un certo punto presi carta e matita e mi sedetti alla scrivania pronto a cominciare Ma non riuscì a resistere e feci aeroplani di carta Pigly, a tavola! Più tardi, quella sera Dopo essermi abbondantemente riempito la pancia Finalmente ero pronto a mettermi al lavoro Allora, vediamo Era una fresca giornata d'autunno alla fattoria Ralu Eh, no, aspetta Era una fresca... Frezzante giornata d'autunno alla fattoria Ralu Sì! Mr. McCoof resterà di sasso Io ero appena tornato a casa dopo aver giocato con i miei amici No, no, no Dopo, dopo un pomeriggio di grandi eroiche avventure Con i miei fedeli amici Quando sentimmo mia sorella Molly Che si mise a strellare come una cornacchia Domani prenderò un bel dieci e lode per questo racconto Io corsi da lei per vedere cosa fosse successo E... Sopra la sua testa c'era... Pigly! Spero tu abbia finito i compiti, tesoro Alla radio c'è il tuo programma preferito Ah, sì, il teatro dei mostri Eh, sì, mamma Ho quasi finito Devo scrivere ancora una pagina Sulla sua testa c'era una libellula Papà la prese delicatamente tra le mani Era un animaletto molto, 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 molto carino Pigly, non vieni? Sì, arrivo Molly non aveva più paura Io e papà abbiamo lasciato libero l'insetto Tutti erano felici e contenti Finito Ah, ecco qua Due pagine Arrivo, papà Willy, guarda, c'è la luna piena Per me non c'è niente di più romantico Oh, un telescopio per vedere la luna piena Oh, Willy, sei un tesoro Tu sei sempre così premuroso Oh, ma c'è qualcosa che non va Non riesco a vedere niente Forse ho sbagliato occhio No, non vedo proprio niente Willy, questo telescopio non funziona Willy, Willy, dove ti sei cacciato? Chissà perché quel procione continua a fissarmi in quel modo Il lunedì mattina, quando arrivamo a scuola Eravamo tutti ansiosi di leggere il compito che ci era stato assegnato Ragazzi, possiamo iniziare Spero che nel fine settimana vi siate divertiti a scrivere il racconto Pigly Vuoi leggere alla classe la tua storia? Oh, eh... Sì, signore Era una fresca, frizzante giornata d'autunno alla fattoria Ralu Io ero appena tornato dopo un pomeriggio di eroiche avventure con i miei fedeli amici All'improvviso mia sorella Molly si mise a strellare come una cornacchia Io corsi a vedere cosa succedesse E sopra la sua testa c'era... c'era... Continua pure, Pigly Finora la tua storia è interessante Sopra la testa di mia sorella c'era un... un... un drago Proprio così, un vero drago enorme in carne e ossa che sputava fuoco Ed era... molto più grande della nostra casa E svolazzava proprio sopra la testa di mia sorella Molly corse tra le braccia di mio padre Ma il drago li seguiva sputando lingue di fuoco per tutta l'aia Poi, con grande coraggio e sangue freddo, mio padre corse al pozzo e attinse acqua fino a riempire un secchio E poi, con una mira perfetta, papà lanciò il secchio dritto dritto nelle fauci infuocate del drago E lui cominciò a muovere a destra e a sinistra la sua lunghissima... coda Il drago, eh, non mio padre Poi... si girò a pancia in su Come un grosso, tenere, morbido cucciolone Il drago in realtà non era cattivo Aveva soltanto sete Finito Bene, complimenti, sei stato proprio bravissimo Grazie, signore Ora puoi consegnarmi il tuo racconto Il mio racconto? Vede, non ho scritto proprio tutta la storia Quelli sono solo degli appunti Ecco, il drago si è mangiato il mio compito Stamattina, poco prima che venissi a scuola Ah, capisco Sai una cosa? Mr. Orna in effetti mi aveva detto che tu possiedi un certo talento, Pigly Sul serio? Oh, certamente E io sono d'accordo con lui Trovo che la tua storia fosse emozionante e piena di fantasia Oh, grazie E questo vuol dire che mi merito un bel dieci e lode? Ho paura Che per questo compito ti meriti al massimo un quattro, Pigly Cosa? Capisci? Non hai svolto il compito che vi avevo assegnato Però, però Ha detto che ho talento Ed è così Tu hai ricevuto un dono Però adesso sta solo a te metterlo a frutto E per farlo ci vuole molto impegno Un impegno che non hai messo nel tuo compito Ma... ma... E adesso torna pure al tuo posto Chi vuole leggere il suo racconto? Non riuscì a pensare ad altro per il resto della giornata Non è giusto Non è per niente giusto Ha detto che ho talento Il fatto è che gli sono antipatico Ecco tutto E ha chiamato me alla lavagna di proposito Oh, scusa Finnegan Tanto cosa vuoi che mi interessi? Mister McCouf non è il mio vero maestro Che cosa vuole da me? È soltanto un supplente Alla fine però dovetti guardare in faccia alla realtà E la realtà era che io non ci avevo messo molto impegno E sotto sotto sapevo benissimo che avrei potuto fare molto di più E così, incoraggiato da una gran quantità di fogli bianchi Mi misi a scrivere sul serio E da quella volta non hai più smesso di scrivere, vero nonno? Hai proprio ragione Ma da allora non ho più dato per scontato il mio talento Vedi, è vero che io avevo ricevuto un dono Ma è stato solo merito mio se sono riuscito a metterlo a frutto Quindi io dovrei mettermi d'impegno per preparare il balletto per il saggio della scuola, giusto nonno? Non mi ricordo di aver detto niente del genere Ma... però io penso che sia un'ottima idea Anzi, potresti incominciare anche subito E spero che anche voi mettiate a frutto tutto il vostro talento E spero che sia un'ottima idea E spero che sia un'ottima idea